miei cari ben ritrovati ecco non amo fare pubblicità a me stesso come molti sanno svolgo l'attività di artista visivo o il mio normale sito web ma mai e poi mai mi sognerei di pubblicizzare la mia attività attraverso i social nel caso attuale però sarà un po la curiosità sarà diciamo l'esperienza letteraria che mi riguarda solo in parte ho sentito il bisogno di esternare questo desiderio di mostrarvi il mio pamphlet edito con edizioni etabeta perché questo perché questo pamphlet o dopuscolo di quasi 70 pagine è un po come una spremuta ottenuta con diversi frutti e rappresenta quindi il succo più concentrato di una mia fondamentale visione del mondo acquisita in età giovanile e mai abbandonata effettivamente tale pamphlet è una ristampa maggiormente rielaborata e dettagliata morte e rinascita del pianeta terra dicevo una ristampa di una edizione degli anni 90 per cui però utilizzai all'epoca un diverso titolo che era la compagnia dei siderali ringrazio l'amico diego fusaro che mi ha voluto dedicare ab inizio una sua prefazione vi leggerò la seguente sinossi per diciamo entrare nel lavoro svolto il disagio esistenziale nel quale sta vivendo l'ultimo uomo residuato psicofisico di un'epoca storica terminale tra le più oscure che siano mai esistite pone in essere il problema e la necessità di una reazione avvertita da un esigua minoranza che ancora possiede il senso della dignità e del valore di una superiore di un superiore ordine spirituale a ciò però si aggiunge la consapevolezza nata da una profonda onestà intellettuale che la rimozione ed il superamento della condizione di schiavitù materiale spirituale non sia possibile ad opera dell'azione umana in quanto impotente da sola affronteggiare un sistema demonico di così rara potenza come l'attuale per contro però va anche riconosciuto che secondo le antiche tradizioni che ci parlano dei cicli storici storicamente e metastoricamente ci si trova nella famosa quarta età quella della dissoluzione finale e per tale motivo si può quasi paradossalmente considerare normale quella che è una situazione patologica l'autore mosso da una visione del mondo anti progressista ed anti modernista si spinge ad immaginare ma sostanzialmente a desiderare un intervento liberatorio dall'alto da entità non umane celesti divine siderali e nel contempo la creazione nel prossimo futuro di una comunità di uomini speciali pronti alla sacra accoglienza ecco ciona naturalmente questo concetto lo evidenzio anche nel libro non bisogna stare in attivi aspettando la divina discesa degli dei siderali anche se scenderanno un giorno scenderanno ma bisogna continuare normalmente a lottare sia spiritualmente che politicamente perché questo è il nostro sacro dovere in questa esistenza questo concetto l'ho sottolineato più volte in sostanza fare ciò che deve essere fatto ma come ogni antico guerriero guardare anche in alto in attesa di scorgere quella luce divina che prima o dopo restaurerà l'ordine dei cieli su questa lacerata terra questo mio scritto potrà apparire a molti come un prodotto fantasy ma vi domando quante volte la fantasia o la fantascienza ha incontrato la realtà coniugandosi con essa perfettamente sarei davvero felice se poteste leggere il libro meditandoci sopra e magari iniziare a costruire una grande comunità spirituale ovviamente lo troverete ovviamente lo troverete nelle consuete librerie online nonché reperibile in quelle cartacee afferenti al circolo direct book cari amici un caro saluto da Umberto Salmeri la salute sia sempre con voi grazie grazie grazie